Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 ottobre, lunedì 15 ottobre, ben inizio settimana a tutti, sapete che la settimana inizia alla grande se questa sera verrete a vedere Quarta Repubblica. Perché vi parlo di questa Quarta Repubblica? Perché oggi abbiamo una diretta come al solito lunedì su Rete4 e soprattutto perché oggi siamo sul tema fondamentale della giornata e cioè la manovra fiscale. La manovra fiscale sul quale c'è uno scontro, come è normale che ci sia quando c'è una manovra fiscale, quando ci sono due partiti che cercano di dire da loro, uno scontro alla calor bianco, su che cosa? Sulla cosiddetta pace fiscale. Facciamola semplice, la pace fiscale oggi si compone, bisogna leggere forse il messaggero, oggi lo fa meglio di altri, si compone di vari strumenti ed è fondamentale per portare quelle risorse necessarie a finanziare il reddito di cittadinanza ed è pensioni a quota 100. Si compone di tre componenti, una del tutto inutile, cioè la rottamazione delle cartelle tra il 2000 e il 2010, cioè le cartelle esattoriali che vi sono arrivate a casa per bolli non pagati, per multe, quelle cartelle in realtà sono inesigibili di fatto e quindi rottamarle vorrebbe dire praticamente nulla. La seconda tipo di rottamazione di condono fiscale riguarderebbe invece le cartelle tra il 2010 ed oggi superiori ai 1000 Euro, questa sì è una rottamazione simile a quella che aveva fatto Renzi negli anni scorsi e prima di Renzi altri, devo dire che non c'è grande differenza rispetto a quello che hanno fatto gli altri governi, direi che è la stessa identica cosa, se non che le rate per questa seconda rottamazione devono essere 10 in 5 anni, quindi un po' più generoso il lasso di tempo concesso ai contribuenti per rottamare cartelle esattoriali degli anni passati fino al 2010. Terza operazione del condono fiscale sono le liti fiscali, cosa succede? Se voi fate una lite col fisco perché loro vi fanno un accertamento e voi dite no, non è vero che mi dovete dare quei soldi, voi andate in commissione tributaria, se vincete nel primo grado della commissione tributaria, secondo questo condono fiscale del governo giallo-verde, avete vinto, date solo il 50% di quanto pretende lo Stato, se addirittura avete vinto in secondo grado potete dare soltanto un terzo, cioè soltanto il 33% di quanto pretendeva lo Stato, ma oggi sul sole 24 ore, secondo me il sole del lunedì oggi è stato veramente straordinario, dice ma chi cacchio paga? La metà si è avvinto in primo grado, ma siamo matti, voi venite da me, mi fate un accertamento, l'accertamento è completamente come spesso avviene una cagata mostruosa soltanto per far cassa, io vinco in primo grado e nonostante io abbia vinto in primo grado dito il 50%, ma siamo impazziti, questa è la teoria di un sondaggio fatto con dei professionisti del sole 24 ore oggi che dice che ovviamente i professionisti dicono che questa chiusura delle liti fiscali in questa maniera non è assolutamente conveniente e loro non le accetterebbero, ma è evidente che non le accettano, io non accetto di pagare quando ho vinto già in primo grado, è ovvio no? Il vero punto interrogativo è l'articolo 8 del decreto fiscale che oggi pomeriggio è bravo, una vittoria che rende il 50%, qualcuno di noi è fantastico, dice una cosa del sacrosanta, ha detto in zuppa. L'altra questione è la cosiddetta dichiarazione integrativa di cui parla Bitonci, sottosegretario dell'economia leghista in un'intervista oggi a Libero e allora lì è una cosa potente e quello è un vero e proprio condono fiscale ed è il motivo per il quale nel governo il Movimento 5 Stelle non la vuole. Cosa vuol dire? Io ho fatto una dichiarazione fiscale tra il 2010 e il 2015, prima ovviamente nel 2010, diciamo che ho fatto una dichiarazione fiscale negli ultimi 5 anni, perché prima sono tutte prescritte e io cosa dico? Io Nicola Porro però scusate mi fisco, nel 2017 mi sono sbagliato, ho detto che avevo guadagnato 100 mila Euro, ne ho guadagnati 200 mila, 300 mila. Allora Bitonci dice se fai una dichiarazione integrativa, la fece Tremonti questa operazione nel 2012 mi sembra, o 2002 non mi ricordo, se voi fate questa dichiarazione integrativa pagate sull'eccesso che voi avete autodichiarato il 15% di tassa. Allora qui le cose diventano interessanti per gli evasori o non evasori totali, perché con il 15% cosa fanno? Per farvi un esempio, hanno le cassette di sicurezza piene di contanti e dicono sapete che c'è di nuovo, io allora dichiaro questi contanti in cassetta di sicurezza, quanto mi costa? Mi costa il 15%. Su questo tipo di pace fiscale penso che oggi litigheranno nel Consiglio dei Ministri che parte alle 5. Di Maio, favoloso, dice che taglierà un miliardo di pensioni d'oro, però non funziona così perché i pensionati d'oro, secondo quello che Di Maio stesso ha scritto oggi sui giornali, sono sopra i 4.500 Euro, 70.000 persone e dovranno essere tagliate, lo spiega bene oggi sempre il messaggero, dovranno essere tagliate in funzione dell'età di pensionamento della persona, quindi se io ho una pensione d'oro e sono dato in pensionamento a 57 anni e oggi si va in pensionamento a 67 anni, quindi sono dato in pensionamento d'oro 10 anni in anticipo rispetto a oggi, non è importante quanto ho versato di contributi, ma questa è età anagrafica in funzione di questa, quindi becco la batosta. Ma Boeri ha calcolato che per quanto le batosti queste 70.000 persone ti possono dare 150 milioni di Euro l'anno, non il miliardo che si attende Di Maio. Poi dice, fantastico Di Maio, sulla questione delle pensioni e cioè della quota 100, altra minchiata di questo governo, dice, ho notizie per cui se un'azienda a licenza mette in pre-pensionamento una persona a 62 anni ne assumerà 3, io vorrei conoscere queste aziende. Di Maio, presentamele, presentami un'azienda che manda in pensionamento una persona e assume 3 giovani, e oggi che aspettava? Aspettava la legge Di Maio, aspettava il giallo-verdi per assumere 3 persone, ma io dico, ma cazzo, ma io non dico, è anche sufficiente non lavorare per capire che è una follia questa idea che prendono 3 persone e se ne vanno in pensione una, ma chi conosci, ma beato te, vivi nella Silicon Valley forse. Diciamo di economia c'è questa roba qua, però ce ne sarebbe tanto altro, il giornale oggi titola Ladri di pensione, proprio sulla questione del pagamento alle pensioni, ci sarebbe sul reddito di cittadinanza, l'inchiesta di Repubblica, la solita inchiesta in cui dice che i centri per l'impiego non riescono a trovare neanche un lavoro sostanzialmente, ma io trovo 3 pezzi che oggi vi consiglio, anzi un altro riguarda l'intervista a Cottarelli che è molto bella di Francesco Merlo in cui smettetela di prendervela con Cottarelli, Cottarelli l'ha detto chiaro e tondo, allora sentite come stanno le cose, interviste di Cottarelli, loro dicono i demagoghi dell'ultima ora che prende 6500 euro a puntata l'uomo che doveva tagliare i conti, a parte che 6500 euro a puntata è tantissimo e sono assolutamente d'accordo con chi critica 6500 euro a puntata in genere il prezzo di un presentatore televisivo o non di un ospite, ma il punto non è questo, primo aspetto, la RAI ha pagato una cifra astronomica a Fazio e la sua officina, cioè Fazio si produce il suo prodotto e l'ha venduta una cifra astronomica al passata gestione della RAI, va bene? Quella è il passato e la cosa che non funziona, in questa astronomica cifra che sta già pagata, Fazio che cosa fa? Prende 6500 euro e non paga Cottarelli, paga l'osservatorio dei prezzi e della finanza pubblica dell'università alla cattolica, il cui responsabile è Cottarelli, allora arriva subito il malizioso, il cagone che ci dirà, eh vabbè però paga l'associazione di Cottarelli della cattolica e questa associazione ritornerà dei soldi a Cottarelli, no, Cottarelli non prende niente da quell'associazione, non ha uno stipendio da quell'associazione, è un pensionato, non prende nulla, quindi Cottarelli non prende 6500 euro, le prende l'università cattolica e con questi 6500 euro l'università cattolica fa delle borse di studio, clap 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 forse i migliori soldi spesi dalla officina di Fazio sono esattamente questi, poi dopo si critica, ah poi parli tu, lo spendaccione, quello che è andato in pensione a 59 anni, vero? Che facciamo amici? Togliamo la pensione di 140 mila euro che lui dice limpidamente a Cottarelli, chi la paga la pensione? Il Fondo Monetario Internazionale, quindi bene, finalmente un po' di soldi che arrivano dall'estero all'Italia, secondo, perché è andato in pensione anticipata? Perché a 59 anni Letta l'ha chiamato a Palazzo Chigi e lui non voleva prendersi l'aspettativa dal Fondo Monetario Internazionale, se no avremmo gridato al conflitto di interessi, quindi che cosa succede? Quello non si prende l'aspettativa, va in pensione anticipata, comunque ridotta rispetto alle enormi pensioni che avrebbe pagato il Fondo Monetario Internazionale e adesso gli rompono le balle, vabbè, insomma, adesso io penso che l'intervista a Cottarelli ve la dobbiate leggere e capire che potete non condividere nulla di quello che dice Cottarelli, ma attaccare Cottarelli per delle cose inesistenti come la sua pensione o i suoi soldi è una roba da barbari, bellissimo oggi Paolo Isotta sul Fatto Quotidiano che parla dello Stato Sociale, quel gruppo che il primo maggio andava alle piazze a raccontare le cagate, lo sapete, la giustizia, la libertà, le stronzate, è divertente come lo scrive Isotta, è fantastico la sua prosa, è fantastico quando li prende in giro, è fantastico quando definisce i 99 posse per i quali la liberazione degli oppressi consisterebbe nell'anello, nel naso, questo è Isotta, la photo che fa Isotta di tutti questi è geniale, l'ENA, il mitico ENA, quello che fece Macron, Giscard, Chirac, Hollande, tutto l'ENA è in rosso, la mitica università francese segno dei tempi che passano, ah sì, è vero, le elezioni in Baviera, oggi i giornali sulle elezioni in Baviera riescono a dire soltanto una cosa, a compiacersi della vittoria della verde, questa è l'unica cosa che piace ai giornali, sono contenti che la FD ha preso l'11%, che è comunque una cifra incredibile, ma dicono meno del previsto, sono contenti che i cattivoni del partito cristiano sociale abbiano perso 10 punti percentuali, godono come dei ricci, non ricordano che i socialdemocratici si sono dimezzati, ricordano soltanto la vittoria di questi verdi, l'ultima moda del giornalista opinionista unico italiano, Bonanni oggi sulla Repubblica che è l'esempio tipico, cosa dice? Il partito cristiano sociale tedesco ha perso perché ha voluto inseguire la destra sui temi dell'immigrazione, poi la destra neanche ha vinto sui temi dell'immigrazione, non sapeva un po' come mettere insieme le cose, aspetto ancora un articolo ben fatto che oggi non ho letto sulle elezioni bavaresi, abbraccio a tutti, vi dico che stasera abbiamo Quarta Repubblica, ascolterete tutte le novità sul condono fiscale perché questa sera abbiamo tutte le informazioni del Consiglio Ministri che si preannuncia davvero caldo, ciao!